Salve gente, io sono Reaper e scrivo un nuovo video di Eldaria su Minecraft Official 8. Siamo qui con questo nuovo episodio e voi adesso vi chiederete tutti quanti, perché Reaper hai queste cose nell'inventario? Beh, è successo tipo una cosa del genere. Reaper, dopo aver affrontato milioni e milioni di pericoli, dopo aver sconfitto milioni e milioni di mostri, sei ridotto... Reaper, lo smetti di inventarti cazzate? Lo sanno tutti che sei sceso da quella cazzo di montagna, sei scivolato e sei caduto giù, e visto che non hai ritratto più il fottuto posto in cui sei morto, sei andato a svaliggiare quella povera città di villageri in fondo alla campagna di... Reaper, vaffanculo! Uffi, io voglio apparire un eroe però, non vale! Comunque, ok, siamo finiti qua dopo una morte molto dolente da quella montagna a quella non so quale, il problema è che dopo essere caduto appunto non ho più trovato i miei oggetti e sono qui sperduto in questo lando desolante e senza roba. E quindi niente, praticamente questi libri e queste cose l'ho presa dal villaggio, anche la lana questa qui, che l'ho presa praticamente da quelle torce, ci cazzo affogando, esci fuori Reaper, non sei così stupido da affogare in questo modo. Ok, che l'ho presa dalle luci appunto in giro per la cosa, e anche le torce l'ho presa da là. La workbench sempre da lì, le porte sempre da lì, ho preso tutto da lì perché io sono un ladro di merda. Problemi? Guardate che ficata quella parte lì. La montagna che bucò la nuvola in un modo molto ok, forse no. Allora, visto che siamo finiti in questo punto, io direi di andare un po' in giro a esplorare questo posto, perché mi sembra una foresta molto malvagia, piena di cose che voi neanche potete immaginare, del tipo alberi molto strani con forme antigeometriche. Si può dire antigeometriche? Non ne ho idea. Comunque, cose così, alberi di questo tipo, molto fighi, ma comunque non servono a nulla. E niente, canne da zucchero, mie canne da zucchero. Niente, io direi di esplorare un po' questo posto, perché è molto figo. Vediamo anche i funghetti e cerchiamo di fare un piccolo rifugio per la notte, perché non mi piace morire sempre. Ecco, mamma mia, non riesco a fare un gameplay normale che io muoio. Lui muore, Reaper muore da tutte le parti, si addentra dentro la morte, tutti escono fuori e fanno Oh, Reaper è entrato nella morte, dobbiamo tutti scappare. E poi tutto... cose così, no? Allora, vedo un albero molto strano con delle braccia aperte, tipo, vieni Reaper, ti voglio abbracciare. Vieni qua, ti voglio tanto bene, no, eh? Non vuoi abbracciarmi? Magari ti abbraccio lo stesso, vieni qua. Che carino... Ok, basta. Albero, non abbracciarmi mai più. Mi chiedo, perché volano quei cosi? Non ha un senso logico questo. Perché? Ma sta volando oppure è aggrappato da qualche parte? Non ho idea. Comunque mi inquieta tanto, tanto. Quello è un pollo, uccidiamolo. Mi serve tanto cibo, infatti ne ho rubato un sacco dalle mucche e dal granaio dei villageri. Infatti ho i panini e con i panini io potrò sopravvivere per sempre. Ecco. Ah, no, no, devo andare di là. Mmm, dobbiamo... addentrarci ancora di più. Forse una barca non darebbe fastidio. Però io non la faccio, perché Reaper, quando fa le barche, le fa solo per un motivo. Per... Che cazzo sto dicendo? Ok, forse mi dovrei fare una barca. Andiamo qui verso la riva e usiamo la workbench per costruirci questa fantastica oggetta che ci servirà per nuotare. Ecco, non ho il legno. Fantastico, Reaper, sei davvero molto bravo. Specialmente perché sta rompendo un pezzo di legno con la fottuta mano quando hai un'ascia. Bello, Reaper, bravo, sei troppo potente. Allora, rompiamo queste cose e andiamo qua. Dove sei? Ok, Hawkwood, vieni a me, motherfucker. Cosa è successo? Non ne ho idea. Comunque la barca è quella. Vieni qui, workbench. Non ti abbandonerò mai. Staremo amici per sempre. Tu starai sempre nel mio muori. Allora, anche tu, canale a zucchero, mi servi. E andiamo con la barca da qualche parte a farci un giro tipo crociera nella baita degli squid roteanti. Fantastico questo nome. Dovrei darlo a qualcosa. Tipo a questa baita. No, sarebbe davvero epico. Andiamo a esplorare l'oceano verso l'infinite oltre. Quindi andiamo verso di là. Speriamo di trovare qualcosa di interessante perché sennò qui non va affatto bene. Ok. Se vedete dei bordi più figli e più nitidi e cacchio vai avanti e più strani tipo più smussati o cose del genere e se vedete una non lo so comunque se vedete un po' più carino la grafica da lontano porca troia che cazzo è sto coso? è perché ho messo l'anti-aliasing su Minecraft che si può fare solo con l'Optifine. Adesso non so se nel video si vedrà però facciamo finta di sì quindi è figo. Ok, qui c'è un fantastico gigantesco vulcano la mia potenza psicologica mi procinge che cazzo a salirci quindi lo farò perché io sono molto esplorativo perché non gira? Non capi... Perché non giri più? Barca Paxa Madonna non girava non si muoveva fantastico io ho le barche maligne maligne che ci vogliono uccidere e non è affatto saltella qui saltella qui saltella lì saltella su mentre saliamo devo darvi una notizia che la maggior parte di voi saprà ma la minor parte di maggiore di voi non lo saprà quindi adesso vi devo dare la notizia che io Reaper non ho più dai Madonna mia fottete non ho più il vecchio canale a cui vi eravate iscritti appunto un po' di tempo fa ma ne uno nuovo per motivi tecnici l'ho dovuto cambiare quindi niente vi chiedo appunto di passare appunto per il appunto basta dire appunto il nuovo canale così almeno potete vedere i miei video vedere le cose che faccio di solito eccetera eccetera e poi volevo chiedervi di lasciare un sacco di mi piace sotto questo video perché è bello ragazzi vedere tanti mi piace ci sprona di più a noi youtuber ci dà la carica per fare altri video invece se ne vediamo pochi noi pensiamo cazzo qui non mi se in cula nessuno cazzo faccio video fa è meglio che me ne vada a morì e non è bello ragazzi poi se fate morire youtuber non è affatto bello perché poi pensateci se fate morire riper che vi fa più i video bellissimi come questi no 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 ok dovrò andare a suicidarmi dopo ok qui qui non c'è nulla oltre a un fottuto una cest una cest oh mio non so se aprirla o lasciarla là per farvi un torto e farvi rosicare come i paxi perché voi vorrete sapere cosa c'è qui dentro ma io non ve lo dirò mai oh mio dio oh mio dio c'è una cest calmi mangiamoci i panini sennò qui moriamo di fame c'è una cest sopra il vulcano sopra il fucking epic vulcano master giga eh dopo giga c'è yacht o terra no c'è terra poi basta basta qui c'è una nuvola che passa in mezzo al vulcano perché le nuvole sono fighe e niente qui c'è una cesta voglio aprirla ma ho paura oh mio dio la suspense la suspense ok me ne vado allora direi di andare verso cazzo e notte ho solo due pezzi di lana devo aprire la cesta ragazzi mi dispiace e vabbè sono cose che caviano uno stade sopra un vulcano pieno di lava e cose strane mostri che lo vogliono uccidere quasi di notte con la sera con l'oscurità che cala sopra di lui in modo molto fiero e pavoneggiante in un modo eroico e fantastico in un modo che solo Reaper poteva moddare ok forse moddare no e e ovvio è logico è la cosa più normale che poteva succedere trovare una cesta sopra il vulcano dopo aver fatto una scalata fottutamente incredibilmente difficile è la cosa più fantastica c'è una birch 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 sapling raga sopra un vulcano sopra un fottuto vulcano so que que non ti butto solo perché ho paura di non ritrovarti più guarda perché perché non so che fare adesso mi sento mi sento molto offeso in questo momento non è non è bello fare queste cose non dovete farle non è bello mi serve un'altra workbench perché l'altra l'avevo abbandonata a se stessa cioè no no non è no ragazzi qualsiasi cosa ma questo questo non non me lo dovete fare no 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 non è normale questo raga perché cazzo non girano le barche in questo gioco ah ok adesso ho capito come girare no questo qualsiasi cosa ma questo potevo capire se mi davi un pezzo di redstone lì vabbè un pezzo di redstone una cosa ci ha dato un pezzo di ferro una palla di ferro una palla di ferro ero felice ma questo questo no questo non puoi farmelo tu chi sei per dare a me reaper il re del mondo quasi quasi ci manca poco è un fottuto subling no non è che cazzo è sto coso oh mio dio io ah nella vecchia ha fatto ripar oh no però questo non è bello non è bello è brutto nei miei cioè forse è l'unico alberello che si trova su tutta il daria posso capirlo ma perché perché non è affatto normale questa cosa sono passato sotto un arco gigante bello bello proprio sono felice come qualcosa di felice si può dire così non lo so però non mi sembra malaccio come posto io dico il catroia gira di qua gira di qua pieno di zombe ok oddio che figate queste cose ah questa è il daria v2 si allora c'è il daria v3 è la costituzione di tutte le darie e altre macfe fighe tutte unite no e questa dovrebbe essere il daria v2 se non sbaglio però non c'era una foresta sul daria v2 da quanto mi ricordo eh potrebbe essere leggermente modificato modificato quindi non ne ho idea intanto aggiriamola un po' perché è notte è di notte di notte di notte è notte cazzo basta ci sono i mob non è che dovrebbe essere tanto difficile da capire ecco ok squid io direi di entrare sotto quest'altro arco e continuare a girare un po' in tondo per scovare ma quali qualcosa di happy hole qualcosa di fantastico no ah i chunks mi si sono rigenerati porca puttana adesso non vedo un cazzo già non vedo niente prima perché era notte tutte queste cose così non vedo un cazzo davvero ok che bello il cielo stellato di mai oh oh lì c'è un tunnel c'è un lago fiume o quello che è potrei provare a entrare gira di qua ok non gira mai non gira calmi siamo in questa fantastica gigantesca foresta non so se andare avanti o tornare indietro oh che bello c'è un tunnel ti prego le liane non rompono le barche vero porca puttana ok stavo per morire ok ok frena gira di là gira di là gira di là ok no no ok manco gesù ok 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 tu sei uno scherifero non sei buono sei cattivo vuoi la mia anima non te la darò mai mai sia l'anima che un'altra cosa perché io sono una ragazza molto che cazzo ho detto sono un ragazzo molto nobile quindi non farò mai queste cose cattive ok 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 siamo qui dentro ad un fantastico buco e io direi per lasciare la questa luce è buggata per lasciare la suspense e scoprire in futuro cosa troviamo qui dentro dentro questa foresta magica dei lillipuziani forse dei lillipuziani no ma qualcosa del genere questo video è finito ragazzi oh mio dio riper no si è finito e niente ci vediamo con il prossimo video episodio quello che è sabato prossimo scusate se lo scorso sabato non l'ho caricato ma ho avuto dei problemi sia per il fatto che sono morto mentre scendevo dalla montagna e cose del genere e niente spero che questo video vi sia piaciuto se vi è piaciuto come cazzo faccio ad avere tutti questi ah si ho preso il grano sono scemo non mi ricordo queste cose io e niente lasciate un sacco di mi piace e arriviamo a 150 come il primo episodio vi prego vi amo l'amore è dentro il cuore di ognuno di noi ricordatevelo di ognuno di voi ciao